Testina Rimini si gioca a città di Castello per motivi di sicurezza, i padroni di casa cercano punti di salvezza e Rimini, vinto lo sconto diretto con Limolese, pensa a tenere a distanza gli avversari nonostante il cospicuo vantaggio. Numerosa la rappresentanza bianco-rosso aggiunto in Umbria, anche grazie alla società che ha messo nuovamente a disposizione dopo Budrio, i pullman gratuitamente ai tifosi. La gara ha inizio con questo tentativo di Villanova, sporcato dalla retroguardia ospite, in calcio d'angolo. Il pressing locale prosegue, Gallozzi pennella questo traversone per i Dolphi che appoggia un comodo pallone di testa tra i guantoni di Scotti. A primo acuto i Rimini passa, il traversone di Montanari pesca la testa di Traini, al terzo centro nelle ultime tre giornate. Il replay ci mostra il colpo di testa vincente dell'attaccante, della serie gli schiaffoni servono e come per svegliarsi. Dall'altra parte Villanova si presenta tu per tu con Scotti, ma l'attaccante in maglia numero 10 si devora così la chance del pareggio. Prove di tu finale locale ad opera di Goyerbe che cade per terra senza essere toccato a Munito per simulazione. A 47esimo Villanova si traveste da Assismen, reca al compagno Tempesta lo scambio di favore. Quest'ultimo tu per tu con Scotti lo trafigge rimanendo incredulo anche lui di aver segnato alla capolista. Ma in Rimini si complica la vita rimanendo in dieci uomini, colpo proibito giudizio dell'arbitro di Valeriani ai danni di Nonni ed espulsione. I repreci mostrano il fallo del centocampista in maglia numero 6. Prima del duplice fischio, Tempesta si devora i gol del soppasso. Ottima la prova del classe 99. Nella ripresa Traini ha lasciato di trafiggere Garbinesi, ma l'estremo di casa si supera nella deviazione da posizione ravvicinata. In Rimini non subisce particolari patemi se non a 36esimo quando Bellante, lanciato in profondità, spedisce sull'esterno della rete. Altra occasione per i bianconeri. Da corner arriva questo colpo di testa di Maggioli, bloccato da Scotti. Partita che termina sul risultato di 1-1. Rimini con il minimo scarto porta a casa un parigio che serve per muovere la classifica nella marcia di avvicinamento alla festa promozione.